dati ufficiali di youtube evidenziano che la notizia punto tv dal 12 giugno 2008 ad oggi ha totalizzato un milione 861 764 visualizzazioni ci avviciniamo ai due milioni di visualizzazioni grazie a chi ci segue da ben 14 anni il comune di lentini pretende dai cittadini il massimo impegno per la differenziata ma non si preoccupa però di fare ritirare tutti quei rifiuti speciali segnalati dai cittadini all'ufficio competente e depositati per settimane intere davanti le loro abitazioni dalle prossimo lunedì 3 ottobre informa il comune di lentini con un comunicato pubblicato nel sito istituzionale sarà avviata un'intensa attività di controllo e di verifica sulla corretta separazione dei rifiuti da parte degli utenti i rifiuti non conferiti in modo conforme alle vigenti disposizioni comunali se legge ancora nella nota del comune non verranno ritirati e ai trasgressori verranno applicate multe e sanzioni amministrative il comune di lentini però dimentica di ritirare i rifiuti ingombranti che i cittadini hanno regolarmente segnalato all'ufficio competente per il loro ritiro rifiuti invece che restano per giorni anche per settimane intere davanti la loro abitazione senza che nessuno si premure di raccoglierli per trasportarli all'ecopunto